Non ha sbagliato nulla sul finale, a differenza della prima Manche. E Zingerle, no! Mamma mia! Ed è davanti, non ha saltato, è davanti con l'errore di 15 centesimi, dice sto bene. Ma dovrebbe essere anche regolare il passaggio. Dovrebbe essere regolare. Vediamo la parola. Spettacolo non l'ha dato, bisogna vedere l'ultima porta se l'ha passata. Fortunatamente è riuscita anche a attraversare il sentraguardo. Qualcosa ha perso, perché sicuramente qualcosa poteva essere in vantaggio superiore, ma... Bello spettacolo. Lo spettacolo è arrivato, andiamo a rivederlo. A Zingerle, intanto missione compiuta, però ha dato in rotazione la passata, la passata, poi rimane lì. Dai che passo, dai che passo, dai che passo, passo. Mamma mia! E comunque ha rischiato anche di farsi male. Questi nuovi gonfiabili di nuova generazione si staccano, si aprono, ti permettono di passare anche in queste situazioni. Sono una bellissima, bellissima cosa. Le fattucellule sono molto più esterne, l'avete viste. È tutto un'evoluzione. Peccato perché si è giocato due decimi. Sì, due decimi, che potrebbero costare magari le prime 20, ma anche le prime 15 non possiamo saperlo. Però ha il miglior risultato, ventiduesimo.